Musica Allora parliamo dell'importanza del risparmio d'acqua, l'acqua è un bene preziosissimo. L'acqua è un bene prezioso, purtroppo gli effetti dovuti ai cambiamenti climatici e dovuti anche alle mutazioni morfologiche dei corsi d'acqua ci impongono un grado di attenzione maggiore rispetto al secolo passato e agli anni passati. Purtroppo siamo di fronte ai dati, ci dicono che comunque c'è un impoverimento degli acquiferi, ci sono dei dati che ci riportano a valori di falda minori rispetto a quegli anni passati, per cui il consorzio deve essere particolarmente attento alle pratiche legate al risparmio idrico. Poi è un'altra questione soprattutto legata al deflusso minimo vitale dei corsi d'acqua, i consorzi bonifica si approvvigiona dai torrenti appenninici che sono legati al decreto del DMV, il deflusso minimo vitale che sulla base delle normative europee di standard acqua ambiente ci impongono di applicare, per cui nei periodi estivi, luglio e agosto si riducono le portate potenzialmente derivabili ai corsi d'acqua e bisogna sopperire anche con azioni diverse che sono i muggimenti da falda o recupero di acqua e refle. E' chiaro che tutto questo ci porta a un grado, a un grado, a un quantitativo di risorsa idrica minore rispetto agli anni passati e il consorzio ha messo in campo determinati studi per ovviare a questo problema. Il primo è lo studio per la realizzazione di bacini irrigui, l'applicazione di tecniche, l'efficientamento della rete irrigua, la sistemazione delle opere consortili e poi dopo la modellazione a livello informatico dell'applicazione dei sistemi di irrigazione intelligente consigli irriguo che sono IRINET o IRIFRAME e anche un nuovo sistema che stiamo mettendo in campo che si chiama SICIDROMETRO che sarà un programma che dovrà dare indicazioni di quello che è il grado di sofferenza del territorio rispetto alla disponibilità della risorsa idrica. E' chiaro che tutto questo che mette in campo il consorzio sono delle azioni che chiaramente devono collimare, diciamo, devono andare di pari passo con quello che il mondo agricolo deve fare e questa giornata è la rappresentazione. Cioè il mondo agricolo deve cercare quelle strutture e quelle pratiche irrigue che ci aiutano al risparmio. Ma questo ovviamente è un'azione virtuosa che fa il mondo agricolo nei confronti della risorsa idrica ma è anche un vantaggio dal punto di vista economico perché dare l'acqua giusta alle culture vuol dire risparmiare in termini di energia elettrica e di carburante. Qui è un sistema che è un binomio tra gestione dell'acqua e agricoltura che deve continuare. Allora tu hai fatto l'alternanza scuola lavoro, che esperienza è stata innanzitutto? Beh, è stata una grande e bella esperienza che comunque mi ha potuto mettere di fronte, in realtà comunque differente da quello a cui l'ho abituato sui banchi di scuola. E' potuto far capire appunto il lavoro che fa il CER, a febbraio invece l'Ambi, e in questi due settimane di alternanza ho potuto capire quanto l'acqua sia importante e come il CER operi per rendere tutto questo possibile attraverso l'innovazione tecnologica e quindi come l'acqua sia passata da un argomento qualsiasi è una cosa fondamentale per noi da Ghararia. Com'era la tua giornata qui? Ah beh, qua all'acquacampo si arrivava al mattino verso le ore 8 e mezza e veniva accolto dagli operai con i quali all'inizio vedevamo appunto cosa dovevamo fare al giorno. Per diversi giorni, un giorno siamo andati in un'azienda a Correggio a vendemmiare per una sperimentazione legata all'uva, quindi raccolavamo tutti i grappoli poi evitavamo dei test legati al grado zuccherino. In altre giornate invece ho raccolto delle mela ad esempio per poter sempre analizzare appunto come i gocciolatori che avevamo in prova lavorassero solo a questo punto di vista quindi quello della produzione, se la produzione era maggiore o minore e tutti questi dati mi hanno messo in un database che ho creato insieme ai miei colleghi per appunto capire il trend attraverso un grafico se i gocciolatori erano migliorati o peggiorati nel corso del tempo. Facendo questa alternata scuola-lavoro la tua passione per questo mondo è aumentata? Certamente, perché comunque lavorando non solo sui banchi di scuola legati alla teoria lavorando nella pratica a una stimolazione maggiore in modo tale da poter capire appunto come è il mondo reale invece di stare su un banco di scuola davanti ai libri. Allora, come trattate il tema dell'acqua a scuola? Allora, l'acqua è una risorsa molto importante e si cerca sempre di rispettare l'ambiente e di risparmiare il più possibile. Avete mai pensato che l'acqua appunto vada gestita in questo modo? Sì, perché comunque è una risorsa indispensabile per la maggior parte degli esseri viventi quindi è un bene da preservare in maggior modo possibile. Quindi più si fa per preservare questo elemento meglio è. Una giornata come questa quanto vi aiuta? Tantissimo, perché è molto bello fare esperienza sul campo anche in questo campo dimostrativo è comunque un'uscita è molto meglio che magari stare sul libro e fare teoria però è chiaro che serve comunque un minimo di preparazione. Cosa ne pensi? Più o meno la stessa cosa perché vedendo le cose sul campo è tutto molto più chiaro guardando proprio gli attrezzi che si utilizzano, come sono nella loro integrità è più facile capire comunque come funzionano e come l'agricoltore ci lavora. Invece magari dal libro è tutto un po' più vago e meno chiaro. Studiando e vedendo concretamente l'acqua, appunto tutte le cose che avete detto finora è cambiato anche il vostro modo di gestire l'acqua in altre cose? Certo, perché comunque l'acqua come ho detto prima ogni persona sa che è indispensabile ed è molto importante e anche studiando la scuola e facendo anche vari progetti anche con i prof e altre classi abbiamo comunque scoperto il grande valore che ha e quindi anche in casa o anche semplicemente nel giardino di casa si riesce a mettere in pratica le nostre cose, quelle che abbiamo imparato. Stai cominciando a sgridare già qualcuno che vedi sprecare acqua? Abbastanza perché facendo questo progetto a scuola si capisce perfettamente l'importanza che l'acqua ha nella nostra vita quotidiana e di quanto sia comunque nonostante sia un bene rinnovabile la quantità potabile è comunque limitata e non va per niente sprecata. Allora quanto è complicato spiegare a questi ragazzi l'importanza e il valore dell'acqua al di là dei grandi annunci e degli slogan? È molto importante prima di tutto per la loro formazione ed è difficile quando appunto non si ha la possibilità nell'immediato mentre tu stai illustrando un argomento di avere un approccio reale e anche diciamo così visibile con la strumentazione e la tecnologia che al giorno d'oggi viene messa a disposizione sia dei tecnici che degli agricoltori per cui cerchiamo di sfruttare al massimo tutte le possibilità e le opportunità che abbiamo per avvicinare di più i giovani alle problematiche e anche alle possibili soluzioni tecniche di cui speriamo possano insomma in qualche modo ricordarsi e avere anche la possibilità di sperimentare nel futuro e di approfondire. Ci sono i professori, ci sono i libri, ci sono però momenti formativi come questo. Questi sono fondamentali perché appunto come avete sentito anche dai nostri giovani studenti l'approccio alla realtà per loro è molto più immediata e anche diciamo da un punto di vista dell'imprinting anche mnemonico è molto più semplice che non diciamo al chiuso di un'aula scolastica quando c'è una persona che parla, magari anche delle immagini perché adesso abbiamo anche nelle scuole la possibilità di far vedere diciamo attraverso internet, attraverso diapositive però rimane sempre molto lontano e invece scendere in campo è molto importante anche solo per vedere. Roberto Genovesi, falda e paratoia, da dove partiamo? Partiamo dalla falda perché siamo già qui nella zona dove noi abbiamo una delle stazioni di rilevamento e quindi possiamo cominciare da qua. Dunque parliamo della falda ovvero parliamo della quantità di acqua che viene immagazzinata nei primi tre metri di terreno a disposizione delle culture per effetto di quelle che sono le piogge, dello scioglimento delle nevi e anche della porta dei canali. È una cosa piuttosto rilevante in termini diciamo di alimentazione idrica delle piante perché può arrivare a sostituire anche fino al 50% dei consumi laddove ci sono piante che riescono ad arrivare fino alla profondità della falda ed ecco perché noi qui abbiamo la batteria di strumento e la falda, sono dei pozzetti all'interno dei quali l'acqua si dispone a pelo libero e noi misurando questi riusciamo attraverso una serie di formula quanto complicate che comunque tengono conto di una serie di fattori che riguardano il suolo e riguardano il clima a spazializzare sull'intero territorio. Di queste stazioni ce ne sono 180 su tutto il territorio regionale, territorio di pianura e vengono lette periodicamente ogni 10 giorni dal personale dei consorzi bonifiche i quali ovviamente sono estremamente interessati anch'essi perché capiscono che è un apporto importante alla gestione delle culture e anche alla gestione di quello che è il governo delle acque in generale. In questo momento abbiamo la falda a 2 metri quindi abbastanza bassa, arriva fino a 3 metri dopodiché esce dallo strumento perché è uno strumento profondo a 3 metri e può arrivare al massimo come altezza sulla distanza dal piano di campagna di un metro e in questa escursione diverse culture raggiungono la falda, per esempio anche il grano oppure non essendo una cultura in rigua utilizza l'acqua della falda. Un altro passaggio importante che viene, diciamo una cultura che beneficia della falda è il paesaggio stesso perché tutti gli alberi che vediamo, tutti gli alberi che costeggiano i canali sono tributari della falda per la loro alimentazione idrica e le oscillazioni della falda nate siccitose come quelle che ci sono state per esempio a livello paesaggistico danno luogo a quel fenomeno come potete vedere che il dissecamento di quegli olmi che è stato dovuto appunto a queste grosse escursioni. La rete di rilevamento è oggetto di uno studio da parte del nostro finanziato dalla regione in ambito del PSR che mira proprio non solo a misurare il dato di in sé per sé ma a spazializzarlo correttamente sul territorio mettendo alla disposizione sia degli agricoltori attraverso Irinet sia ai bollettini a tutti quanti quegli utilizzatori che sono alquanto disparati per esempio anche stamattina abbiamo avuto un incontro con ERA alla quale è interessata avere questo dato della falda proprio per sapere qual è la profondità di posa più ottimale per le fogne, per le tubazioni proprio perché in questi anni purtroppo c'è stata una marcata oscillazione e questo ha creato molti problemi. Quindi come vedete è un'attività piuttosto rilevante nel quale noi imponiamo parecchie attenzioni, i consorzi monifiche appongono parecchie attenzioni perché questa attività ormai sono quasi 25 anni che la conduciamo e diciamo siamo arrivati a un livello piuttosto importante. Le paratoie? Ecco le paratoie invece ha a che fare con un progetto di ricerca anch'esso come quello della falda finanziato in ambito del PSR da parte della regione Emilia Romagna che vede l'idea di abbinare l'irlevamento dei fabbisogni reali delle culture attraverso IRINET che è il sistema di assistenza tecnica all'irrigazione che viene fornito dai consorzi monifiche agli agricoltori a abbinarlo appunto a quello che è la movimentazione dell'acqua nei canali quindi prelevare il giusto quantitivo d'acqua da immettere nei canali in funzione di quelle che sono le necessità idriche degli appestamenti lungo il corso di questi canali. È un progetto alquanto innovativo perché comincia a occuparsi del risparmio idrico e cerca di intervenire sull'efficienza della rete e dunque su quel grosso serbatoio che è appunto l'efficienza della rete che dopo aver esplorato l'attività di efficienza degli impianti irrigo aziendali, aver indagato sulle culture o continuare a indagarlo perché è un'attività che credo che continuerà per parecchio tempo, quindi aver fatto tutta l'attività in casa degli agricoltori adesso ci spostiamo presso i consorzi di bonifiche che sono quelli che appunto gestiscono l'acqua e sono quelli che sono più motivati, infatti noi collaboriamo in questo progetto con i consorzi di bonifiche di Piacenza e quello della bonifica arenana che sono le nostre due aree test delle quali noi andiamo proprio a fare questo abbinamento e quest'anno abbiamo avuto finalmente una nata normale dove c'era acqua nei fiumi perché uno preleva acqua da rena e l'altro preleva acqua dalla trebbia e abbiamo finalmente avuto la possibilità di agganciarlo correttamente e di vedere che la movimentazione, quindi l'acqua passata nel canale attraverso le paratoie e a ritroso fino a determinare l'apertura del punto di presa che prende l'acqua dal fiume è stata coerente con quello che era necessario di guida del territorio, questo è quello poi lo spirito del progetto, poi ovviamente il progetto andrà avanti, cercheremo di automatizzare tutti questi passaggi per raggiungere anche oltre che un risparmio idrico e anche un risparmio economico dovuto proprio alla meccanizzazione di tutta la rete. Allora come aiutare nella quotidianità dei ricoltori anche attraverso l'uso della tecnologia? Sì, noi abbiamo sviluppato un progetto denominato Fertirinet che si pone l'obiettivo di ridurre le perdite per l'isciviazione dell'azoto, l'azoto è uno dei problemi dell'agricoltura, la sua presenza in falda ne peggiora la qualità, quindi l'utilizzo razionale e oculato di questo elemento permette di avere un minore impatto ambientale e nello stesso tempo raggiungere degli obiettivi produttivi soddisfacenti. Il progetto si sviluppa su tre azioni, la prima azione è quella di reperire in bibliografia tutti i parametri necessari per mettere a punto delle curve di assorbimento di questo elemento all'interno della coltura. La seconda azione invece è centrata sullo sviluppo di un software capace di aiutare e semplificare il lavoro dell'agricoltore e la terza azione è invece quella di validare in campo i risultati dell'attività di studio e ricerca. Tutto questo si traduce in un software che grazie a Irinet che è un servizio di assistenza irrigua per l'agricoltore permette di semplificare l'operazione di calcolo e determinazione dei quantitativi da somministrare. Uno dei problemi della fertilizzazione è appunto quello di decidere quando intervenire e con che quantità. Questo software di facile utilizzo intuitivo e che non necessita di essere installato nel proprio pc permette di avere l'informazione puntuale giornaliera dei quantitativi da distribuire all'interno del proprio appezzamento. Quindi l'utilizzo è molto semplice? L'utilizzo è stato concepito per semplificare l'attività di campo, quindi l'agricoltore non deve calcolarsi i quantitativi di prodotto commerciale da distribuire sulla superficie interessata, ma è sufficiente inserire queste informazioni a inizio stagione irrigua, quindi tipo di coltura, superficie, fa bisogno nutritivo e il software determina ogni giorno i quantitativi da distribuire semplificando il lavoro dell'agricoltore. Qualche aspetto tecnico, forse un po' più per le dette i lavori, ma è comunque utile capire di cosa stiamo parlando? Sì, stiamo parlando sostanzialmente di cambiamento climatico. Adesso anche in questi giorni siamo passati dai 30 gradi della settimana scorsa a metterci il piumino, 15 gradi, con delle minime anche di 7-8. Quindi c'è questo cambiamento del clima che mette sempre con le spalle al muro gli agricoltori. Uno dei progetti del PSR affronta proprio questa tematica, come razionalizzare gli impianti di irrigazione per il comparto della frutticoltura, per contrastare appunto le difficoltà che ci provoca il cambiamento climatico. In una delle prove in particolare stiamo studiando l'efficacia del doppio impianto di irrigazione, quindi l'irrigazione sopra chioma per la spersione, per raffrescare le piante nel periodo estivo durante, caratterizzati negli ultimi anni da molti periodi con ondate di calore importanti. In questi casi gli irrigatori, gli agricoltori che utilizzano impianti a goccia sono andati spesso in crisi. Allora abbiamo messo in piedi tutta una serie di strumentazioni all'interno di un frutteto dove mettiamo a confronto l'irrigazione sopra chioma per climatizzare e raffreddare la vegetazione con la sola irrigazione a goccia che bagna solo il terreno e quindi non ha un impatto sulla vegetazione. Abbiamo messo in campo tutta una serie di strumentazioni, misuratori di temperatura, umidità dell'aria, diversi livelli all'interno del frutteto, delle termocoppie, quindi misuriamo la temperatura proprio sulle foglie e sui frutti e confrontando cosa succede quando andiamo a bagnare le piante dall'alto rispetto a irrigarle solo da sotto. Si si è visto che effettivamente durante l'intervento di irrigazione le piante hanno un raffreddamento importante di 3-4 gradi sulle foglie fino anche a 5-6 gradi di raffreddamento sui frutti e questo determina soprattutto sulle mele un minore danno da colpi di calore a fine stagione. In realtà però il problema è che questo effetto è molto circoscritto al momento dell'intervento in rigo, cioè dopo 2-3 ore che abbiamo irrigato e bagnato le piante quando si asciugano tornano le temperature del testimone che non abbiamo bagnato. Quindi è sicuramente una tecnica che implica dei costi di impianto perché il doppio impianto ha costi quasi doppi di investimenti da parte degli agricoltori, sicuramente produce degli effetti sulla qualità soprattutto sulle mele legato a forse un po' più di pezzatura e come si diceva appunto meno colpi di calore quindi una maggiore conservabilità, però i costi di impianto, il volume d'acqua in più che deve essere erogato forse nei nostri ambienti non è sufficiente per compensare appunto il miglioramento qualitativo e quindi alla fine di incremento produttivo e economico da parte dell'agricoltore. Quindi il tema del colpo di calore, per questo dicevo una cosa tecnica poi alla fine riguarda tutti perché questa mela, quella mela arriva nel piatto e nelle nostre case, quindi questi colpi di calore possono proprio deteriorare la qualità di una mela? Sì, ci sono proprio problemi di scottature da parte del frutto, quindi una percentuale di prodotto finale non può essere destinato al commercio. Irrigando sopra chioma sulle mele abbiamo visto che in effetti diciamo il frutto mantiene un aspetto più giovanile alla fine, di conseguenza ha forse un po' meno colore, però si evita la scottatura, quindi c'è un maggiore percentuale di prodotto commerciale che può essere venduto. C'è anche il raffreddamento durante queste giornate, questi lunghi e prolungati periodi di temperature elevate, determina, fa sì che il frutto abbia uno sviluppo più regolare, non c'è un'interruzione nel corso della giornata, la pianta si ferma se c'è troppo caldo, in pratica come noi umani alla fine della fiera. Di conseguenza bagnandole nelle ore calde della giornata il frutto non tende a perdere acqua e di conseguenza alla fine abbiamo visto un leggero incremento anche della pezzatura finale dei frutti, quindi è ancora lo studio, le prove di quest'anno ci dovranno confermare i dati, ma potremmo ottenere appunto frutti con minore percentuale di scottato e leggermente più di pezzatura maggiore. Qual è la risposta degli agricoltori di fronte a questi progetti e a questo vostro lavoro? È stato proprio, i gruppi operativi del PSR partono proprio dalle esigenze degli agricoltori, sono molte OP, soprattutto in provincia di Ferrara, molte organizzazioni di produttori che hanno sollecitato di fare prove di questo tipo per capire la convenienza economica e l'efficacia di questi sistemi perché appunto il clima che sta cambiando ha messo molte volte in ginocchio soprattutto i produttori di pere e di mele che con i tradizionali impianti a goccia fanno fatica a contrastare. Adesso quest'anno non è stato particolarmente impegnativo in questo senso ma anche il 2017 abbiamo avuto temperature superiori ai 35, vicine ai 40 gradi per parecchie settimane durante la stagione estiva e quindi ci hanno proprio chiesto di capire come mettere a punto la tecnica dell'irrigazione climatizzante per poter avere la garanzia nel corso degli anni anche con annate diverse tra di loro di poter comunque portare sul mercato sempre dei prodotti di buona qualità e anche in annate particolarmente impegnative. Le scuole in rapporto con la campagna, con l'oricoltura, con l'uso degli strumenti e poi c'è il tema dell'acqua ovviamente oggi un po' su tutto. Voi vi occupate proprio di questo, di mettere in relazione questi due mondi? Diciamo che da qualche anno i consorzi di Bonifica e in modo particolare l'Ambia e Emilia-Romagna si occupano proprio di progetti formativi per le scuole. Quindi partiamo dalle scuole di primo grado, la scuola primaria, quindi dalle elementari fino all'università e ci proponiamo con dei percorsi didattici ben strutturati. La campagna ha sempre un po' molto il suo fascino a tutti i livelli, abbiamo visto oggi anche ragazzi che fanno agraria, quindi vengono qui in maniera anche più tecnica, si parla però anche degli elementari, ha un suo fascino, va conosciuta e vanno forse anche eliminati un po' di miti che ci sono sulla campagna. Sulla campagna, diciamo che i bambini sono sempre molto incuriositi da questo mondo. Noi proponiamo diversi percorsi, come dicevo, ad esempio per i bambini delle elementari e delle medie proponiamo un concorso scuole dal titolo Acqua e Territorio e ogni anno proponiamo un tema diverso. Ad esempio l'anno scorso abbiamo proposto la biodiversità, quindi sviluppare il tema della biodiversità e in modo particolare il ruolo che svolgono i consorzi di bonifica per la tutela dell'ambiente, quindi anche della campagna, il paesaggio in modo particolare, che i consorzi trasformano con la loro attività quotidiana. Quest'anno invece abbiamo, la nuova edizione propone il tema Reporter d'acque e chiediamo ai ragazzi e agli insegnanti di organizzarsi come delle vere e proprie redazioni giornalistiche, come Nettuno TV in questo caso, di andare in giro a fare video, realizzare video, interviste e raccontare appunto l'attività, come il consorzio di bonifica gestisce o ha risolto alcune situazioni problematiche. Quindi possono, come dicevo, realizzare dei video, delle interviste oppure anche dei prodotti editoriali, tipo delle brochure. Come vengono accolte dagli insegnanti, dalle scuole, dai genitori questi momenti? Ma devo dire molto bene, abbiamo sempre un coinvolgimento che sta intorno annualmente ai 1000-1500 ragazzi. L'anno scorso abbiamo coinvolto un'ottantina di classi, abbiamo selezionato i 10 lavori più belli e i primi tre li abbiamo invitati quindi a McFruit, abbiamo invitato tre classi vincitrici e li abbiamo invitati a McFruit e li abbiamo premiati davanti ai nostri associati, quindi tutti i nostri consorzi di bonifica e altri invitati speciali a livello nazionale. Ora, i ragazzi che sono qui questa mattina? I ragazzi che sono qui questa mattina sono dell'Istituto Bocchialini di Parma e sono ragazzi di un istituto superiore, Agraria. Fanno parte di un progetto che si chiama Acqua e Territorio Lab e sono laboratori multimediali che noi appunto rivolgiamo agli istituti di Agraria e Costruzione Ambiente e Territorio. È un progetto, come dicevo, regionale e si sviluppa su diversi step. Abbiamo questi incontri, questi percorsi sul territorio, abbiamo laboratori multimediali dove li facciamo conoscere le tecnologie e le piattaforme informatiche che utilizzano i consorzi, ad esempio come Irinet, workshop dedicati agli insegnanti. e un momento particolare di approfondimento tematico sulla gestione delle emergenze montagne per il dissesto idrogeologico e anche in pianura, la conoscenza del territorio, dei canali di bonifica e questo viene sviluppato in una masterclass, quindi un momento di confronto, di approfondimento di questi temi. Allora, variazione climatica, gestione dell'acqua, piove, non piove, caldo, cosa serve questo strumento? Questo strumento ci serve proprio per capire cosa sta succedendo. È fondamentale quando parliamo di risparmio idrico, di irrigazione, di rispettare le nostre sorgenti idriche andare a prendere solo quello che ci serve. Come facciamo? Qui riusciamo a capire effettivamente quanta acqua è piovuta, qual è il vento, qual è la temperatura e quindi andare a calcolare le vapotraspirazioni, quindi quant'acqua abbiamo perso dal nostro sistema di terreno, piante e andiamo a integrare solo quella realmente necessaria. In questo cosa ci facciamo aiutare? Ci facciamo aiutare anche da sensori che sono conficcati nel terreno che vanno a misurare quant'acqua è disponibile alle radici delle piante. Proprio in un'annata come questa, dove abbiamo visto qualche pioggia più frequente del solito in estate, è fondamentale dotarsi di questi sistemi. Perché? Perché è difficile andare a capire quanta della pioggia piovuta effettivamente è entrata nel nostro terreno. Pensiamo per esempio al classico acquazione estivo. Strade allagate, campi allagati, ma quanta acqua di quella lì che vediamo entra nel terreno disponibile per le piante e quanta invece viene portata via dai fossi oppure viene a percolare nelle falde. Ecco, grazie a queste estazioni noi lo sappiamo. Poi c'è il passaggio successivo. Dobbiamo andare a capire quant'acqua è piovuta, quant'acqua abbiamo perso, quant'acqua dobbiamo restituire con l'irrigazione e questo lo facciamo con IRINET. Questi dati vengono presi, automaticamente processati, inviati a IRINET e IRINET risponde all'agricoltore con un consiglio irriguo semplicemente dicendogli in quell'appezzamento di pesco, per esempio, vai a irrigare domani con 23 mm. Ecco che allora tutta la complessità di questo enorme aggeggio, di questa installazione diventa un semplice sms con un consiglio irriguo di tre parole. Questo è quello che noi facciamo con il progetto Sensori. Non mi piace usare la parola progetto perché in realtà l'agricoltore bolognese può già utilizzarlo e abbiamo già alcuni agricoltori che utilizzano questi tipi di sistemi. Sempre più li vogliamo utilizzare per rispettare i corsi idrici da cui attingiamo l'acqua e per aiutare l'agricoltore a risparmiare sull'energia per l'irrigazione ma anche a produrre di più. Quindi l'agricoltore stesso si può dotare di questo o attraverso IRINET prendere il risultato? Parliamo IRINET di un programma gratuito a cui l'agricoltore si può iscrivere e ci vogliono circa 10 minuti per l'iscrizione, quindi decisamente accessibile. Parliamo di centraline come queste che ormai hanno prezzi davvero accessibili che significano i 10-15 euro per ettaro in un'azienda media quindi parliamo di poche niente, 15 euro in una tantum e semplicemente bisogna fare il collegamento. Per fare il collegamento il canale Emiliano Romagnolo ha preparato anche un piccolo tutorial che sarà presto su internet, che l'agricoltore può seguire per farsene in casa altrimenti noi siamo sempre disponibili ad aiutarlo, basta telefonarci.